Nella storica pizzeria Portalba è stato presentato il libro Le vie della pizza, scritto da Domenico Mazzella, cuoco e restauratore, una sorta di bibbia delle più antiche pizzerie partenopee. Muoversi per le millenarie strade di Napoli, visitare straordinarie chiese e palazzi degustando e confrontando pizze veraci e questo l'intento del volume, il primo di una serie che verranno pubblicati prossimamente. All'interno della guida, che è scritta anche in inglese, sono raccontate poi le notizie, i segreti e le indicazioni utili per imparare a riconoscere tutte le qualità della pietanza partenopea più conosciuta al mondo. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Domenico Mazzella. Basta con vedi Napoli e più umori, ma piuttosto vedi Napoli assaggio dopo assaggio, cioè portare il turista nel nostro centro storico alla scoperta delle pizzerie, di quei templi della pizza che sono nel centro storico, nella compagine del tessuto urbano di Napoli almeno dal 1800 e che sono dei punti di riferimento non solo per i napoletani, ma lo dovevano diventare anche per i turisti, perché è giusto che i turisti abbiano un'idea chiara di che cos'è la verace pizza napoletana e un ingrediente fondamentale della verace pizza napoletana o meglio l'ingrediente fondamentale della verace pizza napoletana è pizza a Napoli.